Continuano le opere di miglioria apportate all'immobile di via Colonna a San Lazzaro di Fano, un edificio prima in disuso e poi dal 2014 occupato da un gruppo di giovani e denominato spazio autocestito Grizzly. Nonostante le polemiche in città non solo sull'occupazione abusiva ma anche sugli eventi organizzati dai ragazzi hanno proseguito comunque nel loro intento, continuando a programmare iniziative e a ristrutturare lo stabile e l'area circostante rimasta in degrado dicono per oltre 15 anni. Ultimamente abbiamo realizzato questo giardinetto che vedete qua fuori e abbiamo piastrellato una piazzetta per ridare vita a un posto che adesso lo vedete così ma prima era una boscaglia dove dentro abbiamo trovato di tutto da rifiuti, pezzi di amianto e abbiamo rimesso a posto la rete quindi tutto quello che è stato detto rispetto a hanno recintato un posto, dicono che sono contro la proprietà privata e poi recintano. In realtà abbiamo rimesso a posto una rete l'abbiamo rimessa in modo da dare sia un punto di vista estetico che un punto di vista strutturale un aspetto migliore. Questo è tutto, non c'è nient'altro rispetto a questo. Ma avete dovuto richiedere dei permessi o delle autorizzazioni? No, noi i permessi non ne abbiamo richiesti perché non ci sembrava che fosse un grosso problema rimettere a posto un posto tant'è che tantissima gente è passata dicendoci comunque questa cosa qua andava fatta, era ora di farla perché è totalmente abbandonato quindi se vogliamo parlare del merito della cosa è un bene, se no ci vogliamo solo appigliare non dico ma in generale quello che sto uscendo sui giornali a piccole cose e di livello burocratico ci sembra che sia un dibattito un po' inefficace. E a chi sostiene che lo avete occupato abusivamente che cosa rispondete? Molto brevemente noi ci abbiamo sempre messo la faccia e lo rivendichiamo come pratica l'occupazione. Noi pensiamo che restituire un posto, rimetterlo a posto con attività di autofinanziamento per avere una base, noi siamo un collettivo politico e per dare una serie di iniziative da fare da culturali a musiche ad altro all'intero quartiere ma anche all'intera città crediamo che sia una pratica legittima e crediamo che sia una pratica da rivendicare e crediamo che chi pensi che questo posto doveva essere meglio completamente abbandonato, il giardino completamente come dire una boscaglia con i rifiuti se qualcuno pensa che fosse stato meglio così rispetto ad oggi ce lo venga a dire però deve essere chiaro su questo. Oggi il sindaco Seri e l'assessore al patrimonio Carla Cecchettelli hanno ribadito che l'immobile è ancora di proprietà del demagno quindi l'amministrazione comunale non può far nulla in merito.